Che cazzo di arma mi ha dato? WTF? MA? Regà? Mi aveva messo le armi di Akam intredefinite, ma vaffanculo tu le armi intredefinite Ti ha zerato la classe? C'era tipo lo switch, sai che puoi switchare a destra a sinistra per le armi predefinite le tue Si vede che per sbaglio ho cliccato di Akam Adesso mi ha resetato tutto di Akam Ritorno, sopravvivi per tenere la tua squadra in gioco Buon punto, un buon punto Quando mi vuole dare una cazzo di arma che non si è un cecchino ci è gioco di merd Sono anche contento Ma? Ma vaffanculo C'era un filo di troia per fuori, eh Compagno tornato in campo Ben fatto Mi hanno sciolto Devo volare via Che merda è la pistola, azzeccano Mi spari in faccia, azzeccano anche lo crack Ma come cazzo è possibile? Donna, che scassa cazzo questo Cazzo Identità Versaglio Italia confermata Diamogli la caccia Cazzo Orlotti Ah sì, quello ciò qua Vedete gli Sky Ah mi dai i soldi? D'accordo? Non lo sa Che bella, inestimabile Ah 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 Obiettivo principale all'interno per tagli eliminati Deve esserci gente verso di là? Sì, sì, ragio Non mi fa pingare, sono in quella casetta là Sì Andiamo a pushare questi maiali Sì Inverda Soldato nemico in arrivo Lancio di equipaggiamento allegato Craccato quella che volava C'è ancora qualcuno dentro la casetta pingata Un tubolo? C'è ancora qualcuno dentro la casetta pingata? Staccato Staccato? Rete nemica violata Individuate le loro stazioni a ping E scaricate in attività Mi ha sciottato dalla casetta Staccato No, l'ho chiuso Aiuto Uh, gente qua Pusciano Tutta dove? Hai aiutati tutti e due un po' Torno Torno Muti sale da dietro? I rinforzi sono in arrivo Dammi all'ultimo Un po' Su porco Se nessuno è stato quel filo di puttana Arrivano dei nemici A pressione in alto Un compagno è tornato in squadra Bene C'è gente qua da me? Quindi gente, so che non capisco dove Dio porco, mi ha saltato dall'altra parte Dio schifoso, ma che schifo di gioco Dio porco C'era un rincoglionito fermo Mi devo far uccidere da solitar Porco Dio Perché? Perché il gioco mi salta in avanti Invece che Dio cani saltare in parte Dio merda Vai, provo a tornare lì Sei di nuovo in azione Dacci dentro Andate alla zona sicura Niente, da davanti, da dietro Ancora qualcuno Dio cani? Nel nonno c'è? Non vai a cagare figlio di proia Dio cani Che scudo essere il cane Che voglia Cinque ritardati Dio cani riescono ad ammazzarmi Sì Che cazzo di team c'erano C'è neanche dove cazzo scendere Tutti i posti di merda Dio boi Potremmo andare qua giù E' andato bene col full team Saldi attivi, i prezzi delle sezioni di acquisto sono ridotti Saldi attivi, compagno tornato in campo Ben fatto I rinforzi sono in arrivo Marto Dio che sto volendo B Saldi attivi Saldi attivi Saldi attivi Prezzini aggiornamento Gas in movimento Alla zona sicura c'è gente sottra tu riesci a dare i soldi come prende un'arma? c'è uno lì? si lo tiene un 4 crosserà giù gli altri riesci a farmi i soldi? ritorno non disponibile non la va o la spacca parco io la safe dall'altra parte del mondo c'è la missa tasse di scorte rifornite prendete quello che vi serve chiamata vocale adesso non posso proprio rispondere cazzo è che mi fa? numero a caso che cazzo è? pronto? pronto? eh? ah ok oh io sono su warzone perfetto ti aspetto viene anche edo poi parco dio c'era un maxime che ci aspettava ah cazzo è adesso ne vado in duo o in trio c'è molta attrada da fare c'è molta attrada da fare se no ci aspettiamo ci string stamperiamo si si oddio che zona di merda da giù qua a sinistra tratta un attimo che devo uscire e chiedere sta cazzo di tramata terra 1 qua a sinistra ok sono tornato non ho colpi oh sto punticino qua non è male aspetta corazze si si c'è un paio lascia ma è facile da sortire un paio e non tutte ah così ok qua è buono se riusciamo a prendere la safe di qua gatti in avvicinamento la zona sicura è piuttosto lontana datevi una mossa gente là sopra di noi ma come mi ha preso sto bombard vabbè io sono safe però c'è gente qua però c'è gente qua siamo qua a camperarne il camioncino su 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 guarda ci stanno devastando però per uno per due taglio bastardo vabbè vabbè Ezz, coglioni, ezz! Aspetta, glielo scrivo. Come 5, zuccano, 2 che botta il Rato che ha botto la kill, figli puttana. Andona col party. Niente, coglioni, va sull'or. Da voi non c'è nessuno. Quello, quello. Facciamo un rollout. Sì, lascia i soldi qua. No, proviamo in 30 secondi. Uh, mi ha fatto la kill su quel tipo, là. Sì? Sì, sì. Adesso, ma dopo. Oh, finito di darmi... Sì. Da, vuoi andare? Sotto? Sì, sì, sotto. Mi ha tirato un'attezzata assurdo. Cinque secondi. Cinque secondi. Un'altra nemica schierata. Il compagno è tornato in squadra. Bene! Sotto a terra. Marco i suoi compagni. Arrivano dei nemici. L'obiettivo è semplice. Eliminare tutti i bersagli taglia. Chihuahua, la chihuahua, tutto come fa. Chihuahua, mi ha detto. Questa gente ce l'avevo introdotto. Un po'. Un po'. Sottato nemico in arrivo. Chihuahua, c'è un botto di gente qua in giro. Sì, non si capisce dove però. Sono qua a destra. Sottato nemico in giro. Sto assolendo. Eh, questo. Mi pare che dove fosse tu. Devo fosse Barranca, ho visto quello. Dove un'altra? Dove voglio. Torno. Mi stavo ricaricando, via. Fili di puttana. Vettia. Torno lì. Tu sei matto? Eh, mi hanno ucciso. No. Stai mai adozzi. Non si capisce. Uno sotto? Tu su? Devo riprendermi un attimo le armi, io. Eh? No, sono un 45 di poco. No, no. No, cazzo. Io vado a lotti. Intercettata una trasmissione criptata. La missione è decifrare il segnale causando più danni possibili alle squadre nemiche. Dove è libero. Dove è libero. Dove è libero. Ah, io sono salito sul tetto. Ma vabbè, scemo. Ho terrato uno con la mina. Quindi l'imbalazione del labbra, anche io. Merda! Ma addio, cane, ma tra i davanti qua! Ma stai scherzando, cioè... Dio, Kahn, sono all'ultimo piano. Guarda, ti sento camperati come maiali. C'è sul tetto, tu, Merda? Sì. È libero il lobby? Sì. C'è. Ne vado un attimo per i muri, allora. Preparati, stai per rientrare. Ah, sì, in avvicinamento. Un compagno è tornato in squadra. Bene! Che cazzo è che prende... Fanno prendendo le... La tua squadra è nella trama sicura. Drago si agita. Che cazzo vuol dire? John Wick? WTF? Cazzo è successo. Eh, non ho tagliato il Kraken. Potevano lasciarlo dormire. Sì, certo. Prendi questo. E beh, c'è giunto da qui sotto. Tanto. Devi riprendere questo. Ah, proviamo a tornare da voi. No, vabbè, ma un cecchino. C'è uno che mi scende in testa. Mi volta la gatta che mi pirocca. Adesso vanno ancora a camperare sotto con gli spastici. Non si muovono, è proprio tutta la portica lì. Cazzo, cazzo, cazze, cazzo. Cazzo, cazzo. Coglione. Mio Bruno Dobbiamo andare Andiamo Saldi terminati, presti tornati alla normalità Io, ci sono così Sotto Porco io che spavente C'è gente qua ancora? Sì, se mi sparano Porco Ahia Mette Ok, tenete a scendere uno verso lì là No, sì Sono due Io in arrivo nell'area Grazie, non possiamo prenderlo Eh, provare una cosa C'è gente qui? Sì Ancora di là Non ho bombardamento Ci sono altri Chi ha mai che spacco Max, 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 max Era una Squadra eliminata Il carico doppio che ho fatto adesso Oh, che piastre Ho lasciato Ho lasciato Ho lasciato un bengala per terra Ma vabbè Oh Io un bombi Baranca dove rilassi lo sape Dando nemico in arrivo C'è gente qua Sole? Ho esploso Ho sbagliato a salermi Da dietro? O qua? Ho sbagliato a salermi Ho scoperto Dio dietro o qua? Grazie Scusi ad assarmi Il barrio che ce la va davanti Eh, addio carne, non potremmo fare un cazzo No, ho fatto una, una, una Non c'è Non è Sotto Maschera Buono, buono, buono Oh, ansia di buono Cici Ho detto che la vincevamo Ahahah Io che ho fatto una macchina più bella Anch'io prima è arrivato uno da dietro, non mi cassa più No, non c'erano davanti, mi sto sparando, ma non mi sono arrivato tutto colpo, mi sa Tutti, in arrivo, agganciarti e tenersi pronti Renzigang GANG Eccoli Eccoli Ben fatto Versagli non mancano, eh Allora Velocità e violenza, niente male Commando Porca puttana Che arma è quella? Non c'è la voglio Abbiamo un tiratore scelto qui Il tiratore? È da Sniper Il medico Quella che non ci può nessuno Forza Renzigang Il medico renzigang Si, 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 si Fermo, fermo. Abbiamo eliminato uno con la molotov. Codo. Stanno tornando qua, sti maialozzi. Sono parlotti. Parlotti? Sì. Max. Ma calentissi. Voi due prendete le nostre armi per terra. Lancio di equipaggiamento per voi. Arma personalizzata qui. Andiamo sul tetto? Andiamo, andiamo. 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 Eseguite uccisioni per decifrare il segnale nemico. Doi cazzo sono tutti? Dov'è pushar qualcuno? Allora giù ci sono a loadout E' sopra? Lo faccio, lo faccio Lo faccio, lo faccio Sotto l'altro C'è ancora qualcuno qua in giro Due verso di po' tipo Laggiù uno Bella Molto terno Porco dio che spavento Io porco eh, non ti vedevo Era sceso qualcuno di qua? Perdete terreno, muovetevi Capisco mica la loadout Non venga nessuno il cardio Vado qui La tua squadra ha raggiunto la zona sicura Che merda, ho fatto il ram7 col murino lungo Vado qui Vado a prendere la taglia qua Mi spane Taglia in campo, al lavoro Qua c'è un altro loadout Arma personalizzata qui Da dove? Da dove? Ah da là, astardi Dove pink blue? Là Dove a terra Arriva l'attacco con mortaio alleato Arriva l'attacco con mortaio alleato Sì Tanto è l'attacco con mortaio Tanto è l'attacco con mortaio Scravata! Tanto è l'attacco con mortaio alleato Vado in laser, non so di che Tu hai l'attacco Tu hai l'attacco Ci sono dei attacco nemici attivi Uccidili tutti Versai in Italia eliminati Ben fatto Bravi, bravi, non fate la taglia Non c'è Non c'è quello due Eh, io sono quasi un cucuzzo Comunque la panda, no? Ho visto Occhio, la finestra di ritorno sta per chiudersi Nemico marcato Nemico contatto Il gas è sempre più vicino Tutti i compagni sono nella zona sicura Noi ho visto Ma ho visto Benieteni Come costruisco Perchetto Perchetto Magro Perchetto 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 Dov'è a sdruppare i soldi? Cazzo vuoi con i soldi, tu hai sempre soldi, che cazzo vuoi? Vieni a vedere? Vuoi fare big money Va che vi è sceso gente là? Anche là? No, non ci credo Era uno Dove avermi scuso? Oh Ma è pieno lui Sono tornato lì della torre Ah no, possiamo... Puoi uscire a sara, siamo Sui? No, non lì, non lì, non lì, non lì C'è gente C'è gente qua Torno lì dalla torre Raggiungete la zona sicura Mettendo una carica Abbiamo perso il segnale della cazza di armi, non possiamo più trovarla Oh no dai, dai, dio porco Mi shot in là della chiesa, diobò C'è gente qua sotto comunque Ah no... Oh no, non... ha tanta gente qua come sono fatti a morire? la porca sto pestrando che dice abili sti due? è fortuna veramente sono ancora un appiesto Sì dentro la sepia, via porco! 3 squadre rimaste nella zona di guerra, attenzione! Non sei uno di 4 Dio porco Vai miau